ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video ci eravamo lasciati alla fine del video 1 di 3 per quanto riguarda l'installazione del bluetti sistema ep 760 oggi riprendiamo col secondo video dove vi faccio vedere come si imposta tutte le opzioni che ci sono in applicazione come funziona come viene monitorato la produzione eccetera facciamo quindi il focus sull'attivazione e la gestione dell'applicazione giusto il tempo di premere iscriviti che non costa nulla e mi date un grosso supporto per far crescere il canale per poi spostarci nel mio luogo dei test dove c'è un 760 installato e funzionante che non è quello del primo video per farvi vedere l'attivazione la messa in servizio è tutto il lato applicazione andiamo ok quindi il nostro 760 è piazzato e collegato abbiamo già le stringhe tutti i cavi come abbiamo visto nel primo video ora si tratta di metterlo in moto metterlo in produzione e farlo quindi lavorare secondo le vostre esigenze dunque una volta collegato tutto la prima cosa da fare è armare le batterie quindi tirando su l'interruttore generare a leva è indifferente quale tirate su prima l'importante è fare poi lo start dalla prima batteria sotto l'inverter fare lo start vuol dire premere il pulsante di accensione questo metallico finché si accende di verde quando si accende di verde il primo vedrete che si accende anche la seconda batteria tra un attimo inizierà a fare dei rumori dei click tutte cose normalissime che fanno parte dell'attivazione e si accenderà anche il led del 7 e 60 sentite questi click tac il led si è acceso da questo momento in poi si tratta di fare la configurazione da applicazione che è veramente semplicissima e parlo per gli installatori se avete avuto a che fare con altri inverter di qualsiasi altro marchio sicuramente nessuno sarà mai semplice come questo da configurare una volta che lui si attiva vi faccio vedere direttamente in app come fare la prima messa in moto lo facciamo direttamente insieme chiaramente dovrete avere un'applicazione bluetti installata con un account attivo e contattando bluetti italia dovete farvi abilitare l'account pro come installatore perché altrimenti alcune gestioni del dispositivo non potrete farle un utente normale non ha tutte le possibilità di avere accesso a determinati parametri come un account installatore fatto questo vi faccio vedere direttamente che cosa dobbiamo impostare nell'app a partire dall'abbinamento della macchina con la vostra applicazione allora la prima cosa che dovete fare è andare quindi nei miei dispositivi e aggiungerne uno facendo aggiungi dispositivo vedete che viene trovato direttamente una p box la p box è questa che vi permette di fare l'accesso alla macchina tramite bluetooth e wifi p box vedete che viene subito trovato andiamo avanti vedete che tra tutte le macchine mi è comparso questo nome p box 231 clicchiamo i tre puntini in alto nel pallino blu e facciamo connessione diretta bluetooth in questo momento siamo entrati dentro la macchina vedete che la macchina al momento segna 73 per cento di batteria se scorriamo in basso adesso qua ci sono tutti i dati di generazione eccetera perché non è una macchina nuova appena piazzata ma vedete che c'è stato inverter off perché adesso vi faccio vedere tutte le impostazioni poi lo mettiamo in produzione un'altra cosa abbiamo degli allarmi qua sopra segna tensione di rete bassa perché il differenziale che c'è come protezione della macchina quindi un magneto termico differenziale da 300 mili ampere in classe a che è quello raccomandato per gli inverter in questo momento è giù quindi lui non sente la rete anomalia che poi andrà via da sola per il momento ci concentriamo sulla configurazione cliccando su produzione abbiamo l'accesso diretto alle informazioni del fotovoltaico che ora ancora staccato e in questa schermata vediamo anche i consumi della casa e tutto che al momento non sono visualizzati perché ancora spento qui sotto abbiamo il consumo di energia dove vi fa vedere se ad esempio vi faccio tornare indietro nella giornata di ieri scorrendo qua nelle ore abbiamo la possibilità di monitorare tutte queste quattro voci cosa sono fv è la produzione fotovoltaica rete è quello che abbiamo prelevato dalla rete quello che è stato consumato quello che legge come ingresso dal contatore alimentazione è quello che abbiamo venduto e questa è una macchina ad esempio di esportazione zero cia è il consumo che ha avuto la casa durante la giornata di ieri ogni volta che abilitate una voce o meno vedete che compare anche la versione grafica questo storico si può visualizzare a tutto schermo quindi diventa una schermata piena sul vostro telefono possiamo ripicciolire di nuovo questi dati si possono scaricare con questo tastino mettendo l'email a cui dovete mandarli vi manda un report di questo tipo vi arriva un email dal bluetti cloud service come questa dove in allegato troverete un modulo excel di quella giornata la stessa cosa potete farla del mese o dell'anno vedete qua nel mese abbiamo tutti i vari grafici potremmo anche scaricare il log del mese poi abbiamo la tendenza del soc la tendenza del soc è il comportamento della batteria nelle 24 ore del giorno generazione fotovoltaica totale il co2 che abbiamo evitato di emettere in atmosfera e il tasso di autosufficienza andiamo direttamente ora nelle impostazioni c'è ancora questa voce è parallelo 1 sotto la schermata principale perché di questa macchina ce n'è solo una tornando indietro nella schermata principale per fare la connessione invece al wifi basta che schiacciate i tre puntini fate ripristino del wifi si apre la schermata dove mettete tutte le configurazioni della rete wifi oppure le rimettete se per caso la cambiate io in questo caso ce l'ho già impostata vedete che vi dà il segnale sia del bluetooth che della rete e vi dice che è connesso questo a cosa serve serve a cliccare sulla macchina per accedere direttamente non col bluetooth ma anche da remoto io ora l'ho aggiunta come p box ma avremmo potuto fare un'aggiunta del dispositivo con la scansione prendendo il qr code stampato sul coperchio lato connessioni ac ci sono due modi per abbinarla e in ogni caso riuscite chiaramente ora che l'ho abbinata dentro il mio account se passa qualcuno vicino col cellulare tenta di abbinarla in un altro account non ve lo fa fare perché dice che risulta già associata finché non viene dissociata dall'account master non si può abbinare ad altri account rientriamo nella macchina sempre col bluetooth perché col bluetooth facciamo tutte le impostazioni principali compresi gli aggiornamenti firmware col wifi non riusciamo a farli abbiamo visto tutto avrete quindi qua la produzione il prelevo da rete e il consumo della casa con tutti i flussi che verranno direzionati in base a cosa stanno facendo entriamo quindi nelle impostazioni allora intanto lo possiamo rinominare e chiamarlo direttamente ep760 massi in questo caso quindi tornando indietro lo vedrete nei dispositivi come ep760 massi rientrando nel dispositivo una delle prime impostazioni che potete fare abilitare questa voce che dice visualizzazione della pagina iniziale se mettiamo la spunta blu tornando indietro vedete che compare direttamente nella home appena aprite l'applicazione solo una macchina può essere nella home rientriamo nella macchina io adesso farò dentro e fuori 50.000 volte per farvi capire e torniamo nelle impostazioni allora manuale utente avete la possibilità di scaricarlo dell'app il manuale di uso tutto quello che vi può servire per ogni paese impostazioni direte sono quelle che abbiamo appena effettuato per il wifi ma da qui possiamo rientrare per controllarle o variarle condividi dispositivo questo è quello che farete ossia generare un qr code che verrà inquadrato dal telefono del cliente per avere anche lui il controllo della macchina non totale ma parziale quindi rimarrete voi come master del dispositivo che potete condividerlo con x persone comparirà un qr code basta inquadrarlo il cliente fa l'aggiunta del dispositivo con qr code e direttamente che vede la macchina modalità di connessione predefinita potete scegliere se cliccando sull'immagine nei miei dispositivi si deve collegare da cloud o da bluetooth conviene farlo da cloud perché la maggior parte delle volte non sarete vicino alla macchina password di connessione bluetooth potete anche impostarla fattore di emissione di carbonio un valore che potete voi impostare per avere la conversione nella home modalità di funzionamento modalità di funzionamento semplicemente andiamo a impostare il soc come funziona il valore blu e il valore arancione allora il 20 per cento che è il soc basso quando arriva parlando di una macchina che lavora in rete a questa percentuale smette di far praticamente funzionare il 760 per tenere le batterie a quella percentuale e inizia a dirottare il consumo della casa direttamente dalla rete il soc batteria alto in caso di ricarica anche da rete delle batterie oltre questa percentuale ricarica solo più da fotovoltaico non abbiamo al momento la possibilità di caricare le batterie a meno del cento per cento se voi impostate 20 80 lui comunque tramite fotovoltaico le porterà sempre al cento per cento tutte queste cose si possono anche gestire con un controllo orario gestendo dei tempi di carica e scarica ma questo viene usato prevalentemente se abbiamo una macchina che carica anche da rete e questo è il grosso del di quello che possiamo programmare perché poi abbiamo l'interruttore principale che serve effettivamente a metterlo in funzione l'allarme serve ad abilitare o meno degli allarmi quando ci sono delle anomalie aggiornamento è una cosa che potete fare solo qua in bluetooth collegati direttamente alla macchina fate tutti gli aggiornamenti appena la mettete in servizio perché sicuramente ne avrete in questo momento lo iot è aggiornato se andiamo nel sistema invece di tutta la macchina vedete che mi dice sei aggiornato perché io ho già fatto tutti gli aggiornamenti ma nella prima installazione avrete da fare l'arm il dsp e l'aggiornamento di tutti i moduli delle due batterie ci andrà un attimino fatto quello vi consiglio poi di fare un riavvio generale per metterla in condizioni di funzionare al meglio impostazioni avanzate e dove possiamo decidere se caricare le batterie anche da rete e con che potenza quindi possiamo impostare i watt e gli ampere possiamo poi decidere una cosa molto importante che è la vendita d'energia perché facendo emissione zero come in questo caso con la spunta non abilitata la macchina semplicemente fornirà quello che sta chiedendo l'impianto che rileva tramite il sensore di corrente e basta non esporta nulla oppure da qui potete decidere se e quanto impostare salva lo stato dell'interruttore principale vuol dire che quando la macchina viene spenta disalimentata eccetera tornerà nelle condizioni di prima quindi se è accesa o se è spenta boost di rete è una modalità che serve ad attivare la ricarica anche in condizioni di rete molto molto instabili il sistema può caricarsi normalmente anche quando la tensione sulla rete di elettricità è instabile a causa di picchi di tensione cadute o altre instabilità manutenzione della batteria dice che al momento non è necessaria alcuna manutenzione però ci fossero delle numerie vi consiglia cosa fare abilita generatore è la funzione che permette di avere in ingresso un generatore per supportare i carichi e caricare la batteria questa è una funzione nuova che hanno aggiunto da poco non l'abbiamo ancora sperimentata ad oggi non so darvi notizie maggiori informazioni di autenticazione questo è il sistema che vi permetterà di avere diciamo i valori dell'auto test da fornire chiaramente un inverter certificato c 0 21 non abbiamo nessun problema di connessione limite batteria del soc serve a tenere il limite del impostato sul valore minimo oppure possiamo anche abilitare il riscaldamento della batteria che chiaramente ha un consumo di energia che consigliano di attivare solo se viene posizionato in ambienti che vanno sotto i tre gradi poi abbiamo la modalità pro nella modalità pro possiamo impostare la tensione di uscita la frequenza gestione in parallelo di macchine l'utilizzo di un contatore esterno per le letture la gestione del pacco batteria pacco 1 e pacco 2 in questo caso ci sono solo due batterie impostazione di autenticazione da qui andiamo a scegliere il paese per la normativa vigente ed è da qui che otteniamo tutti questi valori di protezione i volt i tempi di intervento le frequenze eccetera eccetera che verranno dati al gestore per l'allaccio alla rete ora che abbiamo impostato tutto quanto abbiamo sostanzialmente predisposto una macchina che in questo caso attiveremo con emissione zero ma con tutto quello che può produrre abbiamo in questo momento delle batterie al 73 per cento un po di produzione dovrebbe esserci quindi cosa dobbiamo fare dobbiamo innanzitutto andare nelle impostazioni e accendere l'interruttore principale ok in questo modo la macchina si mette in servizio stato inverter off ci mette circa 10 15 secondi a passare in stato inverter on se avete sentito ha fatto un click e vedete che adesso mi dice funzionamento on grid perché da questo momento in poi è una macchina che viene attivata messa in funzione e potrebbe funzionare anche completamente da sola usando l'uscita di backup i consumi sull'uscita di backup vengono letti direttamente sull'uscita i consumi in modalità funzionamento on grid vengono letti col ct in questo momento non ha consumo e dice off grid perché il differenziale ancora giù ora lo tiro su ci metterà ancora qualche secondo ad andare nel funzionamento adesso vedete che mi sta leggendo un consumo da rete perché effettivamente la casa sta consumando più di 2 kilowatt e li sta ancora prendendo dal contatore appena la macchina entrerà in funzione invece inizierà a immetterli prendendoli dalle batterie e non ci sarà più il consumo da rete vedete che ha fatto un click si sta attivando l'inverter perfetto adesso io vedo che è andata in funzione perché riesco a vedere su un display che nel quadro elettrico cosa arriva o meno dal contatore perfetto vedete che in questo momento la casa sta consumando 2,4 kilowatt non sta più prelevando dalla rete ma sta prelevando direttamente dall'inverter vedete che abbiamo per qualche secondo dei piccoli picchi di prelevo dalla rete questa è una caratteristica della macchina serve a tutelare l'inverter perché nel momento in cui c'è un grosso assorbimento che richiede uno spunto per non sovraccaricare l'inverter viene parzializzata la fornitura di energia questa cosa potrebbe far sorcere il naso a qualcuno ma l'azienda l'ha ritenuta necessaria per salvaguardare la durata nel tempo di questo bestione qua è questione di pochi secondi non è che va avanti per per ore però quel picco aiuta l'inverter a non soffrirlo ecco fatto questo dobbiamo procedere con l'attivazione della produzione quindi tiriamo su eventuali sezionatori protezioni che avete nel quadro stringa e poi armiamo la macchina quindi interruttore principale va premuta la sicura lo giriamo aspettiamo anche qui che si attivi la produzione fotovoltaica produzione partita in questo caso stiamo facendo un kilowatt e 6 la casa sta consumando circa 600 watt se entriamo dentro le stringhe da i valori di ogni singola delle tre stringhe divisi per watt tensione corrente quindi vedete pv1 840 watt pv2 786 watt pv3 che non c'è da tutti i valori singoli segna anche un pv4 che in realtà fisicamente non esiste e da qui abbiamo la gestione dell'impianto quindi lui adesso va avanti con la produzione carica la batteria intanto alimenta la casa e il nostro 760 inizia a lavorare esattamente come qualsiasi altro sistema ibrido con accumulo collegato alla rete in pratica immette energia prelevandola dalle sue batterie o dal fotovoltaico nell'impianto di casa con emissione zero solo quello che serve senza limitazione dell'immissione tutto quello che può dare è quello che in esubero in automatico torna verso il gestore che ve lo ripagherà finché non tolgono diciamo questa cosa poi abbiamo chiaramente la possibilità di installarlo collegarlo sfruttando anche l'uscita di backup che è sempre attiva quindi non va attivata non ci sono dei tempi di intervento è sempre attiva ed è un'uscita da 7600 watt potete collegare un sistema con commutatori ats gestioni automatiche relai inter bloccati teleruttori quello che ritenete necessario fase installazione e avrete lo scambio immediato in caso di assenza rete ed avrete una macchina che lavora di isola al cento per cento sia sfruttando la produzione solare che quello che avete accumulato delle batterie perché alcuni sistemi fotovoltaici danno la possibilità di avere l'uscita backup che a volte è ritardata a volte è limitata soprattutto spesso prende solo dalle batterie quindi magari avete le batterie scariche c'è un sole che garantirebbe una buona produzione ma non potete sfruttare il backup della macchina perché alcuni modelli prendono solo dalle batterie qui invece abbiamo il plus un'uscita sempre presente sempre attiva 7600 watt che prende da accumulo e da fotovoltaico per gestirvi la casa completamente a isola chiaramente una macchina che può essere installata anche dove non arriva la rete perché con 9 kilowatt di ingresso riuscite a gestire un'ottima produzione e magari con 20 kilowatt di accumulo allora sì che si riesce a iniziare a parlare di vera autosufficienza energetica è un bestione fatto bene questo l'ho tenuto aperto per farvi vedere ancora come sono tutte le connessioni ma poi viene fuori un prodotto del genere completamente chiuso nel primo video avete già avuto modo di apprezzare la qualità costruttiva i cablaggi materiali è una macchina di altissimo livello ok quindi vi ho fatto vedere ora come si utilizza tutto quanto in teoria tra un po di tempo dovrebbe esserci anche un terzo video dove vi facciamo vedere come è andata la produzione direttamente a casa del cliente probabilmente che è stato ovunque di un'ottima